allora ragazzi ci siamo mancano 20 secondi all'evento che chiuderà il capitolo 2 sono qui con la pami con me e con le festazzo ai 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 a e festo 10 secondi tanto pepe o mi sembra tutto 4 3 2 1 bisogna di 30 secondi di blocco adesso attenzione pericolo quella punta d'oro farà brutta fine si 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 illumina il cubo ok per adesso non lo vedo bene efe no mi sembra molto intenzionato a fare una brutta fine a questo posto porca di quella porca guarda guarda che è uscita però non ti arrabbiare eh porca bocca c'è sopra ancora la roba guarda le ancelle spaziali eh si no ancora gli alieni che entrano ma sparagli oh devi sparargli agli alieni ma no non credo dai oh porca miseria si invece confio nei miei compagni di squadra confio io non c'ho voglia di sparare io sparo la quella del cubo non gli fai niente dai viaggi 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 ah siamo protetti dal cubo blu è incazzata porca vacca non la vedo bene raga non la vedo bene cioè proprio sta squartando tutto il cielo ehi ehi spara intanto non potete tarci sparate eh si c'è tutto... c'è tutto il cubo blu che ci protegge hanno noto anche il cubo blu hanno noto anche il cubo blu hanno noto tutto che te riti che ti riti che mamma fa di i gnocchi oh porca miseria oh mi ha aiutato è proprio la realità del diabolica ah? ha proprio la realità del diabolica si oh oh guarda quanti cubi quanti cubi I rapitori come distruggete tutto oh che belli che siete guardate che bel balcino ma sono immortali sti zombie se vai sul cubo riprendi un po' di vita ok uno l'ho fatta cacciare oh porca miseria guarda sotto si ma non ce la fanno sono coglioni non riescono a sparargli oh porca miseria ma che roba sparate sparate non muoiono questi è diversa la cosa sti zombie incendono alla testa a me mi ha lasciato anche a me mi ha lasciato ma non ho più le armi oh cavolo stanno morendo tutti io no pure io non sto morendo per adesso c'è un laser che sta friggendo tutti oddio sono arrivati siamo arrivati pochissimi siamo in 18 16 14 12 io sono ancora vivo pure io 9 spolzandomi 8 siamo in 7 5 ma 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 ciao non è prescelto anche io sono il prescelto ragazzi hanno spagato il cubo blu hanno spagato il cubo blu guardalo qua l'agente jonesy dovevi proprio fare l'eroe jones non sai cosa succede agli eroi questa qua è sloan beh ecco sopravvivono e combattono ancora non stavolta no 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 non farlo non farlo niente di personale aia anche se sono certa che mi piacerebbe è conciato aia chi è? what? chi è questo? e questo qui è uno dei set che abbiamo? eh guarda che roba è impossibile ti ho visto morire no ma è The Rock sei tornato per me mi hai promesso anche io ti voglio bene ma come The Rock allora qual è il piano? bel piano ma come The Rock spara a chiunque cerchi di fermarmi perché? che cosa intendi fare? cosa vuole fare? a retarci dall'altra parte come dall'altra parte? oh ma qui si sparano entro eh certo bella mira complimenti ma ma che roba questa la tengo no non penso proprio ma che cosa fa? è la sua voce ecco l'originale eh io non ho sentito puoi fare prima? aiutati e questo non è aiutare ok merda disattivare il giroscopio disattivalo ok disattivare il giroscopio come si fa? come si fa? problema tu oh no problema tu che è? porta guarda che roba iniziale fase 2 iniziale fase 2 sono i nostri questi l'upper abitati questo è l'ano scienziato ecco come entreremo dal bunker dal bunker è uscito dal bunker ancora è dal bunker ok gente ripiegare l'area è sicura ci vediamo dall'altra parte seguitemi tutti al ponte lì saremo al sicuro ma come seguitemi al ponte? eh si dobbiamo seguirlo ma guardate ma vai a seguirlo sono tutte le armi ci sono questo è il nuovo Unreal Engine dovrebbe essere apro io la porta come apro io la porta io non ce l'ho sti poteri dei rock uno dei reflexi d'accordo muoviamoci oh tutto storto guarda che roba oh roba da matti l'autobus l'abbiamo perso rotazione 15 gradi vabbè è un mostro questo ci siamo quasi presto vi concederò una pausa per bere c'è un'altra strada che giornata dico bene? vai 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 sì ma è bella la giornata fratellino ancora ste cose ma che roba ma come i 30 gradi? oh questo è l'epicentro dell'isola amici qui siamo al sicuro l'epicentro dell'isola come di 45 è fatta dov'è la mia arma? ok forse l'ho persa come è fatta a cadere? nel punto zero perché mi costringe sempre a salvarti bene ce l'hai fatta vi hai portato i looper abbiamo perso la superficie ma qui saremo al sicuro ok ma dai mai siamo tipo in quattro sì sì anche noi siamo in cinque reggerà regge mille volte la pressione atmosferica di quello che mi dici è ora di nuotare è ora di nuotare? schermo nero non so nuotare pure io che bello dove siamo? ah non lo so porca vacca l'isola è tutta ripanzata madonna ma è tutta l'isola ma è sotto l'altra isola sì è una follia magari ne fanno una parte sommeosta ma non lo so eh sì è come i cagliani e poi con la picco ma guarda te vabbè regina sei un po' una pipa hai fatto lo dire guarda come si gira wasabi basta ecco che appunta mamma mia sì è un maremoto crea ora penso proprio di sì bella bebbe ma come sta la mappa ragazzi ma dai quel montarozzo quant'è alto eh sì no che paura oh porca vacca arriva l'onda appunto parlavamo di maremoti vado questo fa male eh sì oh il titanico per davvero figlio e finisce così e finisce così e finisce proprio allenato su un tronco maaaaa ragazzi come vi è sembrato l'evento ditemelo qua sotto nei commenti forza porca miseria ditemelo come vi è sembrato l'evento